L'osteoartrosi al ginocchio, meglio conosciuta come gonartrosi, è un'infiammazione cronica che colpisce la cartilagine presente a livello dell'articolazione del ginocchio e più in specifico parliamo dell'articolazione femororotulea e dell'articolazione femorotibiale. In genere è una patologia che si riscontra con maggior frequenza negli individui di età adulta, ne sono più colpite le donne rispetto agli uomini. Tuttavia a seguito dei traumi di sovrappeso o di obesità è possibile riscontrare osteoartrosi al ginocchio anche in soggetti di età inferiore ai 30-40 anni. In questo caso i traumi più comuni sono da ricercarsi per esempio negli interventi di meniscectomia, traumi causati da sport, soprattutto lesioni meniscali, lesioni ai legamenti dove il rischio di artrosi aumenta da 4 a 6 volte, carichi sportivi troppo intensi e una predisposizione individuale. Occorre inoltre sottolineare che il consumo di N-acetilcisteina per periodi prolungati, ovvero superiore a 28 giorni all'anno, può aumentare il rischio di osteoartrosi al ginocchio. Così pure anche il consumo eccessivo di alcol può portare un aumento di questo rischio. La diagnosi si fonda principalmente sull'esame radiologico anche se nelle fasi iniziali della malattia è possibile riscontrare quadri clinici normali. Questo perché l'artrosi al ginocchio ha in genere un decorso lento e progressivo. I sintomi caratteristici dell'osteoartrosi al ginocchio sono la presenza di ipertrofia ossea con la formazione di osteofiti, dolore durante la palpazione, dolore durante il movimento che rappresenta un sintomo caratteristico di questa patologia, la presenza di rumori durante il movimento articolare e la possibile presenza di un versamento e quindi di un accumulo di liquidi nella cavità articolare causato dalla presenza di processi infiammatori. Come sempre se avete curiosità o domande potete farmene nei commenti oppure scrivermi a info-voxalcorporation.com. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, condividere i contenuti e lasciare qualche like e vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti.